Ciao ragazzi, benvenuti nel terzo, o secondo episodio? Non mi ricordo. Terzo, terzo. Terzo? Sono già al terzo episodio su questa mappa di me. Eh, volevo dire bellissima mappa. Ok, no, pensavo che il mouse fosse carico, perché io non riesco a giocare con il mouse attaccato alla batteria? Mi impedisce il cavetto. Oh, io sono andato solo con il fangonico, ero stravante. Ancchia, ho iniziato il video da neanche un minuto e già sei partito con un voto di anti-family friendly, eh, ma no. Sei la persona meno family friendly che io conosco. Aspettami. Se sono caduto stavi facendo tutto. Poi, qua. Ma dai, ti dico, aspetta, mi ho. Ma sono qua, fermo. Ma non è vero. Sì, sì, tu lento. Oddio, aspetta, mi ho ancora ancora di lava? Cioè, nel livello primo? Vedi, Antonio, non ti vedo nemmeno. Cioè, da quanto sei avanti non ti vedo. Certo, non mi vedo. Certo, sei assolutamente più avanti di me, testa di cavolo. Ah, veramente? No, ma dai. Non lo so, io neanche guardavo. Mi dispiace così tanto che sia caduto. Ah, come faccio a sapere che sia caduto se non so come sei? Oh, ops. Ecco perché mi stai sui coglioni. Se mi aspetti che magari vorrei andare un po' più lento su sta mappa. Ah, no, 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 no. Ti butto giù 20 volte. Vedi? Sono un po' fermo che ti aspetto. Certo. Adesso ti butto giù 20 volte, ti giuro. Prima raggiungimi, per favore. Sto arrivando, grafico. Sono contento che hai imparato un po' ad andare veloce perché... Non so. Ma lol, non mi ha preso il... Sto facendo tutto di fila senza filmarmi. Eh, fermati perché qua... Porca di quella tr... Non ci ho migliorato tanto nel parkour, devo dire. Grazie soltanto. TANTO! È in confronto alla prima volta che l'abbiamo fatto, sì. Beh, su Bedrock Edition era difficile farlo. No, intendo comunque su Java. Vabbè, io continuo a ripetere ancora. Ah, ma io non avrei mai giocato con un computer impossibile giocare con una tastiera. E adesso che non riesco nemmeno a tornare più a giocare sull'iPad, però ok. Se ti fermi, che abbiamo già finito il Nether, non so. Sai, io volevo farlo in... Ma sì, sì, ti aspetto alla fine della mappa, tranquillo. Aspetta, almeno dove c'è Land. Almeno lì, fermi, perché se no... Oh no, ma mi fermo anche prima. Ma ti vuoi? Fermo! Volevo rivedere al prossimo checkpoint perché avevo il porto... Ti ho detto, io ti butto. Però sono fermo perché sono arrivato al prossimo checkpoint. Certo. L'immobile. Assolutamente. Vedi, sono qua. Mannaggia te, guarda. Lo volevo metterli giù, eh. Vedi, l'ho visto, eh. Tu non mi aspetti mai, questo pezzo di merda. In realtà siete a quello che non mi aspetti. Sono al portale del Land. Non entro perché voglio aspettarti. Certo, assolutamente mi aspetterai. Eh, pezzi di merda. Sono capito. Quindi adesso devo rifare questo pezzo prima di arrivare nel... Ma il problema è che tu vai avanti, poi non c'è nessuno... C'è rimango soltanto io e basta. Ma io va che ti aspetto qua. Eh, di vero. All'inizio è... Ecco, adesso qua. Sono a fianco al portale del Land. E ti aspetto qua. Ma io sto facendo tipo un giro strano perché devo vedere che mi era fatto questo. Vedi, ti vediamo me. Vabbè, facciamo un giro normale. Ecco, io sono qua. E ti aspetto. Se cadevo, madonna. Mi sto allontanando da te perché ho paura che mi butti giù. Andiamo? Ti butto giù. Certo, entriamo. No, ti impami subito. Dai, no, Marti. Non ti tipo mai più. Adesso te lo dico. Marti. Tu non mi hai aspettato. Adesso ti attacchi. No, ti stavo aspettando. Io potevo già entrare e andarmene chissà dove nel Land. Eh, che noioso. Io non mi sono lamentato così tanto. Adesso te ne sei pure andato. Che noioso, madonna. Ragazzi, Alex fa sempre il bambino ogni volta. Fai sempre il bambino. Sono qua fermo che ti sto aspettando. Fermo, vedo, eh. Fermo. Mi sto muovendo? Fermo, stavi saltando. Eh, infatti, non mi stavo muovendo. Non mi stavo saltando. Allora anch'io, scusa, potevo già farmi il primo livello del Land. Così, invece ti ho aspettato. Certo. Non mi hai fatto soltanto fare straveloce il livello del Nether. No. Sì, perché non mi piace il Nether. Ah. Vabbè. Facciamo che non è successo un cut. Eh no, scusa, oh. Io ti aspetto pure. Ah, certo, 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 certo. Eh no, non ero l'immobile nel portale. Di fianco al portale ad aspettarti, eh no. Ero già entrato senza l'Italia nel Land. Non hai assolutamente detto 20 volte che mi stavi aspettando. Mi hai aspettato una volta sola. Cioè, non, non, sicuramente. Guarda, ti mettoci un guarda. Non è che stavo... Cagando sul tappeto. Ma no, io non ero lì fermo ad aspettarti di fianco al portale del Land. No, io ero già entrato avanti nel Land, avevo già finito il Land. Stai zitto. Eh no, scusa. Dimmi se sbaglio. Senza che ti... Senza averti picchiato, eh. Ecco. Quasi per prima. A cagare. Oh, io non ti ho picchiato. Sì, mi hai piccato prima. Sì, sì. Vabbè, basta. Pesce di merda. Non ti ho toccato. No. Eri in mezzo ai coglioni, scusa. Ma che cag... Ciao. Ma te nemmeno mi aspetti, vedi? Sono fermo qua, fermo qua. Non è vero. Non è vero. Eh? Come non è vero? Adesso mi muovo perché mi picchi, perché tu sei un bast... TARDO! Vieni, 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 vieni. Dai, Marty. No! Basta, me ne vado. Non lo volevo. Vabbè, ragazzi, siamo rimasti soli. Finiamo la mappa senza Alex, perché tanto non me ne frega assolutamente niente. E gli consiglio di tornare se vuole arrivare alla fine della mappa con me, se no, si attacca. Perché ti cavolo... Eh, c'è lui, come va avanti? Ma boh, tu continui a insultare le persone a caso. No, non è a caso. Sei te che mi butti a caso. E tu non mi hai aspettato. Anzi, solo una volta. No. E te nemmeno, cioè. Eh, perché dovevo aspettarti quando tu sei andato avanti tutto il tempo, mi hai aspettato soltanto alla fine dell'end. Va bene. Sì, ma eravano tutte e due alla fine. Se vuoi venire, io sono qua. Comunque non è vero. Ciao. Quello che hai detto non è vero. Senti, se sto cercando di entrare... Signorino, non si incazzi, eh. Mi sto incazzando. E ti pami subito. Ma che cazzo vuoi? Sono qui, fermo. Qua? Sono qua? Infatti io sono molto prima. Sai perché... Sai, io me lo sono rifatto quattro volte. Sai, io me lo sono rifatto quattro volte per sbagliato di sdrae in quattro volte. E stai? Ma il fatto che te lì io l'avevo finito e te naturalmente no, mi devi buttare giù dall'altro lato. Devo rifarmi tutto l'acqua. Oh, che piagnone però, dai. No, no. Sta zitto. No. No, oh, non mi ha preso il check. Godo. Guarda, la barazza, vai. Guarda, la barazza, vai. Guarda, 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 guarda. Però tu ti puoi tippare, io no, eh, io no. Esatto. Ah, va, Luca, ma fa... Ma è vero. Questo è il fatto. Ma è che... Ma cosa vuoi? La verità si dice. Che merda sta mappa, non mi ha preso il check, mi sto schifo di scrotocefalo di creatore che ha creato sta mappa. Sarà stato tuo fratello. No, no, io non volevo. E so che su questo non ci toghi. Tanto che te dicevi è uno scroto, io ti ho detto. Se vuoi ti faccio saltare un pezzo di mappa, se vieni qui. Quale? Puoi fare in teoria così. E salvarti con mezzo cuore. Mamma mia, Dio. È vero? No. No, ti prego. Mangia a te. Ah, va, Luca, ma fa, bello, riuscire. Andiamo avanti. Sì, andiamo avanti, non indietro. Come stare per far te? Vai a cagare. Basta. Dai, basta. 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 Vai. Vai. Non so dove andare. Vai. Non so dove andare. C'è il Chorus. Non so dove andare. No, prima le donne. Va bene. Non pensavo fosse così. Tronzo. Bene, ragazzi, se volete c'è una persona chiamata Alex, che è una donna. Tu devi andartene a fai in c***o. Vieni qui. Vieni, salta. Salta, dai. Sto saltando. Tanto vuoi rimanere fai? Io sto qua fai in c***o. Tutto il video così. Tanto. Va bene. Andate tu al video, non il mio. Prendiamo una tazza di tè. Mi hai fatto credere che fossi... Vabbè, me lo rifaccio, dai. Non è di mica di andare tanto per rifarlo, quindi non sono così stupido. Te ne vai giù. Pezzo di mer... Anzi, vado indietro. È giusto di qua che bisogna andare, perché di qua non si può andare. Vado indietro, eh. Ma! Vai, vai indietro. Vai indietro. Non si, non si, non si, non si. 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 Non si. Non si. Non si. Non si. Ma sei un... Anzi, questo va bene, ma anche se mi fichi non mi succede niente. Vuoi che faccio il giro di là e ti butto giù? Va bene. Bene. Tanto so che tu vai avanti. No, no, no. Alex, Alex no. Alex no. Alex no. Alex, non siamo più amici, te lo giuro. Mi fai cadere, poi te ce la fai. Ah, io ti faccio cadere che mi hai buttato c'è dieci volte. Io? Sì, tu brutto strosso. La persona più gentile al mondo? Eh, più gentile di sto cazzo. Tanto so che poi non mi è che sei. Aspettami. Te sono caduto. E' da fastidio quando te sei avanti, io sono indietro. Io devo stare sempre. Ho mi schiacciato. Ho mi schiacciato. Vabbè, io faccio prima a far così. Ho mi schiacciato. Ho mi schiacciato. Tu parlare in italiano proprio no, eh? No. Non si può. Ma questo livello è impossible. Hai sbattuto sul coso. Ti aspetto qua, dai, morti. Te ce l'hai fatta? Sì. Vedi? Secondo me hai sbattuto lì dove c'è il muro. Ho sbattuto lì la testa. No, secondo me è qua. No, la testa. Sono i blocchi più basi. Eh, per fortuna che l'hai sbattuta una volta. Se l'avessi sbattuta due, la sarei diventata strascita. No, perché io ho lasciato l'acceleratore. L'acceleratore? Cosa siamo? In un'automobile? O su Minecraft? Non ho capito. Ragazzi, questo sarà un episodio che termineremo adesso. Sì, perché non ho voluto.